Ciao, sono Zuzu e per questa puntata tema chiese e spiritualità quasi quasi vi sbattezzo e questo il titolo di un fumetto utile e intelligente di Lisette Alami. Il protagonista, Beto, ha una famiglia che crede in Dio e nella chiesa. Lui però crescendo fa una serie di conoscenze, di esperienze e soprattutto di letture che lo allontanano da quei dogby. Decide quindi di sbattezzarsi e questa decisione mette in subluio il rapporto con i suoi cari, soprattutto con sua madre. A volte anche l'idea apparentemente più innocua può rappresentare un pericolo per chi ha costruito la sua vita basandosi su concetti preimpostati, predigeriti. La madre infatti, pur di non mettersi in discussione, si trasforma in un megafono che urla e ripete concetti imparati a memoria. Lo stile di questo fumetto è simbolico, schematico e sperimentale e il suo tono è autoironico senza essere mai didascalico. Adatto a tutti, credenti, miscredenti, atei, agnostici, angeli e diavoli. Ciao!